Questo qui l'ho saputo solo ieri sera. Da qualcuno di cui ti puoi fidare? No, al contrario, da qualcuno di cui sa di non potermi fidare. Ma ha senso? Credo. 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 Va meglio. Ma cosa è successo? Non lo so. Ti senti bene? Ehi! Guarda! Oh no! Oh no! Avrei dovuto far saltare in aria subito la Starshine. Uno dei due si è immerso in questo momento. Ha con sé bombola e respiratore. Bisogna apertire Giulie. Aspetta, ti do una mano. Ma che cosa pensi di fare? Non ci riesci a trovarle lì sotto? Forse no, boss, ma ci devo provare. Ah mamma! No! Mi piace! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.